Ricordate il futuro Devi tornare indietro con me Dove? Indietro nel futuro Siamo tornati Vuole dire che siamo nel futuro 21 ottobre 2015 Marti, potremmo vedere il nostro matrimonio Wow, il futuro Mi serve il tuo volopattino overworld Via, 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 via Ovviamente, il continuo un temporale è stato interrotto creando un 1985 alternativo Uno strano 1985 Ma riusciranno a tornare Pronto? C'è nessuno in casa? Mamma, non puoi essere tu Sei così abbondante Michael J. Fox Christopher Lloyd Michael J. Fox Siamo come una coppia di sposini E... Michael J. Fox Mamma, sei tu? Steven Spielberg presenta Un film di Robert Zemeckis Ritorno al futuro Parte seconda Grazie a tutti 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 Grazie a tutti